Ciao ragazzi, io sono Insane Gamer ed oggi vi porterò una nuova serie, inizio Clash Royale, il nuovo gioco della Supercell uscito a inizio marzo. Aspettiamo che si carichi, perfetto, come vedete c'è un po' di chest da aprire, iniziamo sbloccando il baule d'argento e iniziamo facendo il chest opening, apriamo il baule omaggio, troviamo oro, frecce, mini pecca e subito il principe, attenzione, carta epica in da free chest, posso subito potenziarlo, apriamo l'altra chest omaggio, trovo sempre l'oro, i barbari che ho sbloccato, il bombarolo, ok, iniziamo con i bauli d'argento, oro, frecce e gigante, l'altro baule d'argento, oro, bombarolo e frecce, apriamo, non so quale di due valga di più tra baule della corona e baule d'oro, quindi apriamo il baule della corona, oro, gemme, cannone che ho sbloccato per sei pure, poi una lapide, il razzo che ho sbloccato e i barbari che posso potenziare, apriamo il baule d'oro, oro, frecce, goblin lanceri, bombarolo e ooooh, mini pecca che posso potenziare, perfetto, miglioriamo il principe, miglioriamo i barbari, miglioriamo il cannone. questi sono i miei tre mazzi sperimentali, anche se costano troppo, miglioriamo il mini pecca, al livello 3, e basta, off camera ho fatto un paio di attacchi, sono passate più o meno 4-5 ore, infatti ho ancora il baule dell'omaggio, il baule della corona e 3 bauli d'argento, iniziamo, aprendo ancora il baule omaggio, che trovo oro, gemme, bombarolo e frecce, apriamo l'altro baule omaggio, oro, cannone e gigante, apriamo subito il baule della corona, nel quale trovo oro, gemme, arcieri, frecce, torre bombardiera o suspense, mini pecca, pensavo ci fosse una epica dopo la rara, oro, cannone e valchiria nella cesta d'argento, oro, sgherri, cavaliere, apriamo l'ultima cesta d'argento, nella quale trovo oro, arcieri e bombarolo. Allora, come vedete, ho cambiato un pochettino il mazzo, sto facendo un paio di aggiustamenti, poi alla fine del video vi farò vedere il mazzo, a metà video vi farò vedere il mazzo che sto usando in questo momento, che sono in Arena 3, lì segno 802 coppe perché questo video l'ho registrato un po' di tempo fa, però al momento sull'account sono a noi, faccio il test del deck nuovo, vediamo subito come funziona, questo qui da 4.0 di costo medio, cavalli principe, cannone, capanna dei goblin, lanceri, goblin lanceri, sgherri e valchiria, cerchiamo una partita, sono 820 coppe perché un paio le ho perse off camera, iniziamo, mettiamo il cannone, anzi no, aspettiamo che parta prima l'avversario, mettiamo subito il cannone per la difensiva e poi aspettiamo che l'avversario schieri le sue truppe, ecco mette il gigante quindi io metto il principe e i goblin lanceri dietro e gli sgherri, lui mette il moschettiere che però sta per morire contro il cannone, io metto la valchiria, in cui i goblin lanceri fanno danno, di là c'è il cannone, metto il cannone perché c'è il principe, spreca entrambe le cariche e io ho già fatto una stella grazie alla valchiria sul lato sinistro però anche lui mi pareggia con il draghetto, draghetten, mettiamo i goblin lanceri e buttiamogli giù il drago, io metto gli sgherri nella fila centrale che però poi vanno contro il mini pecca, quindi aspetto che si ricarica l'elisir, metto la valchiria, lui lancia il barile che è un'infamata assurda perché hanno un sacco di danno quei goblin, poi sono pure livello 6, nel frattempo la valchiria sta facendo danno alla torre centrale dell'avversario, lui mette il principe ma il principe non caga il cannone e quindi mi fa la seconda stella, arriva l'elisir per 2 perché manca 56 secondi però sgherri, principe, goblin lanceri, metto, lui mette il gigante, qui c'è il drago, sono un po' nella cacca perché lui lancia il barile, non c'ho truppe di difesa, non costa troppo questo mazzo, però la torre centrale è rimasta 238, oh mio dio sgherri, subito sgherri, strega, buttiamogli giù tutto, valchiria, vai sgherri buttategli giù il moschettiere, convinto lui di potermi uccidere la strega con le frecce, vai principe, lui lancia i goblin lanceri, muoiono subito perché ci sono i cannoni, principe fa la carica e olè tre stelle, mamma mia che recupero, quando si dice che hai il fattore c, questo era fattore c perché ho fatto un recupero che non penso di riuscirci mai più, bene ragazzi questa era la prima battaglia, adesso ne faremo altre due, poi facciamo un'altra battaglia, sempre con lo stesso mazzo, vediamo come va, mettiamo il cannone subito in difesa, un po' più avanti ecco tipo qua, poi la strega, no anzi i goblin lanceri e gli sgherri per buttargli giù il gigante anche se penso che gli facciano poco esatto, mettiamo la valchiria che morirà subito per colpa del mini pecca, il mini pecca sta avanzando e il drago ha anche, mettiamo la capanna dei goblin così spawnano goblin lanceri e fanno danno al drago perché non ho difesa aerea in questo mazzo, oh mamma lui mette giù lo scheletro gigante, certo ha speso 6, poi ha messo i goblin lanceri, io ho messo i miei goblin lanceri e il cannone, gliela tiro giù prima che si avvicini alla torre così non subisco danni, metto gli sgherri, tiro giù tutte le sue truppe, lui mi mette il bombarolo e glielo uccido, poi metto il principe, aspetto che si carica l'elisiero, mettiamo il principe sul lato destro, gli stiamo per tirare giù la torre di destra, però lui mette il drago, che fa male, però attenzione per poco non la buttavamo giù, c'è la valchiria dall'altro lato, mettiamo il cannone, così il drago se la prende col cannone e nel frattempo mettiamo i goblin lanceri, qui la torre di destra è stata buttata giù, però anche lui mi butta giù la torre di sinistra, io gli ho messo giù gli sgherri per uccidergli le truppe, ci sono riuscito, qui c'è il bombarolo, ok mettiamo il principe al centro per attaccare la torre centrale, lui mette lo scheletro gigante, quindi goblin lanceri, lui mette un sacco di goblin, goblin lanceri e goblin col pugnale, io metto solo i lanceri e poi gli sgherri, che ci pensano a far danno allo scheletrone, così la bomba lì è inutile, metto la strega sulla sinistra per proteggermi dal bombarolo e dal gigante, ma mi fa fuori, metto un altro cannone così tutte le truppe si concentrano sui cannoni, metto goblin lanceri, mi sta tirando giù la torre centrale qui, attenzione metto gli sgherri, la torre centrale rimane a 368 di vita, termina in 5 secondi la battaglia, sgherri per distrargli le sue truppe, il cavaliere va sulla torre di sinistra, al posto di andare su quella centrale, gli sgherri buttano giù il pecca, poi metto i goblin lanceri, altri sgherri per uccidere il bombarolo, lui mette il drago, io metto la valchiria, siamo nel supplementare, quindi devo fare solo una stella per vincere, attenzione, metto il cannone, quindi vado sulla difensiva, cavaliere inizia la carica, 51, e olè, vinco 2 stelle a 1 con la torre centrale a 333, più 35 trofei e il baule d'argento, sono arrivato a 885 trofei, perfetto. Ragazzi, da Insane Gamer è tutto, il mio record qui adesso è 915, perché ho fatto un altro paio di partite offline e le ho vinte, un paio di partite off camera e le ho vinte, e nulla, bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, bella!